C'è Piraghi su quel lato, c'è già dentro Lukaku, arrivava anche Pellegrini in area di rigore, ancora lo sviluppo giallo-rosso con la giocata da parte di Cristante, il tocco dentro Lukaku! Daglielo, ma daglielo! Vai, ballo, presa! Dio, porca madonna! No, 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 non ce la faccio, fermiamo qui, non ce la faccio più bene, no. Qua me, palla morbida in mezzo, il colpo di testa di Llorente che allontana, buonaventura la caccia del palco di quello... Un ottimo tiro! Un ottimo tiro! Amore, bazzardo! Ci vediamo alla prossima, ciao ciao! No, ma porco Dio, ho sbagliato! Prenderlo Lukaku, che adesso ovviamente in fase di non possesso dovrà dare ancora più una mano con due di testa! Non ci credo! Non ci credo! Io parlo, se lo vuoi! La caccia! Ma fa cura! Ma che cazzo diavolo fa? Vora! Belli gol! Belli gol!